Un riscatto per tutto quello che hanno passato i miei figli, così l'imprenditrice anti-racket Valeria Grasso, visibilmente commossa, ha commentato stamani l'inaugurazione della sua palestra Free Life nel quartiere San Lorenzo in via Matteo Dominici a Palermo, che sarà riaperta al pubblico da gennaio, ma che è già stata completata. Dopo essersi rifiutata di pagare il pizzo, la Grasso è finita nel programma di protezione dei testimoni di giustizia per aver denunciato i suoi estorsori e vive in una località protetta. A seguirla in una parte del lungo iter personale giudiziario furono anche i magistrati Vittorio Teresi e Antonio Ingroia. Oggi è un momento importantissimo, direi non soltanto perché si riapre la palestra, ma perché la palestra l'hanno riaperta gli studenti del liceo Danino Dolci di Brancaccio e grazie a loro è potuto avvenire tutto questo. Io ho sempre creduto nei giovani, ecco perché il mio impegno è sempre stato quello di portare la mia testimonianza nei giovani, perché ci ho sempre creduto in loro. E oggi è stata la risposta. Loro si sono secondo me sostituiti allo Stato, loro hanno fatto qualcosa di grandioso e tra l'altro il fatto che vogliono fare in questa sede faremo un presidio di legalità. Loro si metteranno a disposizione di altri giovani e loro vorranno fare iniziative per aiutare ragazzi in difficoltà, per stare a fianco a imprenditori in difficoltà. Questo credo sia qualcosa di grandioso. A tagliare il nastro dell'inaugurazione è stato il sindaco di Palermo, Leluca Orlando. A consentire questa riapertura della palestra sono stati i giovani, gli studenti del liceo Danino Dolci, un segnale in più nella lotta alla mafia. C'è stato un lavoro di tanti ragazzi dietro che hanno voluto testimoniare a valere a questa città che quando i ragazzi sono impegnati, seriamente, nella consapevole, si mettono in gioco e lo fanno anche con passione, con il cuore e anche con la testa. La legalità è libertà. Noi attraverso questo gesto vogliamo dimostrare alla gente che comunque siamo dei ragazzi e questo non è il nostro limite. Alla fine ciò che c'è a comune è davvero molto 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 stretto, quindi comunque la distanza nemmeno la notiamo.